Salve a tutti, diciamo io ho iniziato nel settore giovanile del Pescara per poi fare una prima esperienza tra i grandi a Giulianova, a casa mia poi mi sono trasferito a Campobasso e è stato un anno positivo a Campobasso dove anche abbiamo perso la finale per andare in C poi ho avuto la chiamata della San Benettese dove ho trascorso 5 anni lì purtroppo c'è stato diciamo che nell'anno del Covid siamo falliti ed è arrivata la chiamata del Foggia dove sono stati due anni meravigliosi e quando mi ha chiamato il direttore ho capito subito l'organizzazione societaria c'è molta ambizione anche perché è una piazza storica quindi c'è voglia di fare bene ho sentito anche il capitano Settembrini dove mi ha confermato che è un grande gruppo e si punta a fare bene quest'anno ma io credo che diciamo avendo consolidato il gruppo dell'anno scorso sicuramente c'è una base importante per fare bene poi nel campionato di Serie C un campionato lungo, difficile dove comunque sia l'Arezzo può dire benissimo la sua quindi ce la metteremo tutta per raggiungere il risultato più positivo no 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 conoscevo solamente Shaka che diciamo ho avuto questa esperienza con lui a San Benedetto sei mesi e basta sì è un grande gruppo, è un grande gruppo, bravi ragazzi mi sono trovato sin dal primo giorno molto bene